Prego consigliera, buongiorno e ben tornata nei nostri studi. Abbiamo qui la consigliera Raffaella Sensoli. Intanto le chiedo subito, lei viene da Rimini, non so se vuole commentare una delle tante notizie che abbiamo rilevato sui quotidiani. Beh guardi, mi ha colpito ovviamente il titolo che riguarda la violenza che c'è stata nel centro anziani. Purtroppo non è il primo caso che emerge in tutta la regione. A tal proposito siamo anche intervenuti in regione più volte chiedendo ovviamente per le strutture, soprattutto quelle private accreditate sulle quali la regione ha una funzione di controllo, appunto maggior controllo, maggior fermezza per quanto riguarda gli standard di qualità di questi servizi e soprattutto per quanto riguarda la gestione del personale. Purtroppo ci ritroviamo davanti a situazioni in cui il personale non è sufficientemente qualificato, oltretutto viene sottoposto a orari di lavoro stressanti, spesso purtroppo anche sottopagati, ed è naturale che queste condizioni lavorative poi possano portare a una situazione di stress e quindi a una maggiore probabilità di episodi di violenza, mai giustificabili ovviamente. Però chiaramente anche le condizioni in cui versano i lavoratori di queste strutture possono incidere poi su quello che è il trattamento. Purtroppo di anziani disabili, persone con disabilità, e a volte anche di bambini per quanto riguarda ad esempio gli asili, perché gli stessi episodi sono accaduti in passato anche all'interno di asili. Ovviamente non devono succedere questi episodi, poi c'è tutta la querelte, le camere sì, le camere no, però insomma intanto partiamo dalle condizioni di lavoro, di vita e di rapporto che c'è all'interno di queste strutture. Andiamo a vedere, le chiedo subito un commento sul discorso dell'autonomia, perché abbiamo visto come il Corriere di Bologna dedichi sempre molta attenzione alle politiche regionali e uno dei temi sempre al centro del dibattito, l'avete affrontata anche in assemblea legislativa, è quella dell'autonomia, perché autonomia regionale vorrebbe dire maggior possibilità di gestire alcune delle materie che sono di competenza della regione. Adesso qui il Corriere di Bologna ne ricorda alcune, l'istruzione e la ricerca, dalla tutela ambientale alla protezione civile, la finanza pubblica e i tributi. Intanto al momento, dice il Corriere di Bologna, in questo pezzo è firmato da Beppe Persichella, proseguono gli incontri dei tavoli tecnici, ma la chiamata del governo per questa autonomia ancora non è arrivata. Bonaccini, adesso il titolo qui è ultimato, ma qual è il suo parere su questa vicenda e come lo vuole commentare? Io credo che le cose, se devono essere fatte, vanno fatte per bene. Quello che abbiamo criticato alla Giunta e al Presidente Bonaccini non è tanto la richiesta di autonomia, sulla quale siamo d'accordo, ma è il modo in cui è stata portata avanti. Si è messo in coda rispetto a Lombardia e Veneto, che comunque uscivano da un referendum, quindi da una volontà popolare, già questo era quello che avevamo chiesto anche in Emilia-Romagna per sapere i cittadini dell'Emilia-Romagna che cosa pensassero riguardo all'autonomia. Ma a parte questo, il documento presentato dall'Emilia-Romagna era, secondo noi, troppo fumoso. Cioè si parlava di autonomia, si parlava di temi, ma non si andava a specificare cosa si volesse fare nel concreto e con quali risorse. Quindi se da parte del Governo, ovviamente, dobbiamo aspettare un mese in più, ma per fare le cose a modo, mettiamola così, ben venga. È ovvio che anche da parte del Governo, da parte del Ministro Di Maio, si era, anche il Ministro si era pronunciato in passato in maniera favorevole alla maggiore autonomia delle regioni, quindi non vedo ci siano particolari ostacoli, se non quello appunto di fare le cose per bene. Quindi, come dice anche l'articolo, i tavoli tecnici stanno andando avanti, quindi vediamo insomma gli sviluppi. Quindi, anche se non dovesse arrivare entro dicembre, non sarebbe un problema? Io non vedo questo particolare problema, se non un problema di, diciamo così, di propaganda e di campagna elettorale. Insomma, siamo partiti con l'autonomia sbandierata come, secondo noi, propaganda elettorale. Non vorrei che continuasse a essere solo un tema da elezioni, ma appunto se andasse sul concreto. Cambiamo tema, ho scelto questo articolo che abbiamo trovato sulla libertà di Piacenza, perché la libertà di Piacenza è da due o tre giorni che dedica degli articoli di approfondimento e anche un editoriale sul tema dei paesi della montagna. Fino a ieri il tema era la difficoltà di avere addirittura un'ambulanza per alcuni paesi e adesso c'è questo tema della scuola. Non siamo numeri, salvate la nostra scuola. A Marsal la recita di Natale dei bambini diventa un appello. Le regole devono avere cuore perché rischiano di perdere appunto la loro scuola. Qui c'è anche, viene riferito il punto di vista di, che dicono, Molinari dice stiamo sollecitando il ministero perché si cambino i parametri del numero minimo degli iscritti nelle scuole di montagna. E Rancan dice questi bambini mi hanno commosso. La recita poteva non esserci se la scuola lo scorso anno avesse chiuso. Il tema della montagna è un tema complesso perché naturalmente coinvolge vari ragionamenti che riguardano la viabilità, il lavoro e anche quello della sanità. Lei è vicepresidente della commissione sanità. Le chiedo un parere in generale perché quella della montagna, la sanità in montagna ha riguardato in particolare anche la chiusura dei punti nascita. Le chiedo su questo un parere. Allora, come giustamente dice lei, il tema della montagna è molto complesso. Diciamo che per mantenere viva la popolazione della montagna sostanzialmente gli assi su cui bisogna agire sono tre. La sanità, la scuola e i trasporti. Secondo noi, ad oggi, tutti e tre in questo momento sono insufficienti. Riguardo, faccio un breve accenno al discorso della scuola, sono passate in commissione alcune risoluzioni, tra cui anche la nostra, dove chiedevamo intanto alla regione di poter agire secondo le sue competenze. Lo si può fare, la regione Piemonte lo ha fatto. Quindi, ovviamente, da parte del governo e sicuramente da parte del Parlamento serviranno delle modifiche per tutelare la montagna. Però intanto la regione si potrebbe attivare con degli accordi con il Ministero proprio per poter stanziare fondi per mantenere i plessi scolastici esistenti. Per quanto riguarda la sanità, sui punti nascita ci siamo battuti fin dall'inizio. Questa regione purtroppo ha voluto la chiusura di alcuni punti nascita di montagna, cosa che noi abbiamo fortemente denunciato e sulla quale, per fortuna, il nuovo governo sta lavorando per l'eventuale riapertura. Da un lato ci rammarichiamo del fatto che proprio oggi l'assessore Venturi e il Presidente Bonaccini escano sui giornali dicendo discutiamo per un'eventuale riapertura. Questo sempre a sottolineare come a ridosso poi delle elezioni, perché manca un anno, siamo a fine legislatura, a breve verrà votato l'ultimo bilancio per questa legislatura, si inizia a parlare di temi cari ai cittadini fino a quando, finché praticamente fino all'altro ieri, invece si è chiusa la porta in faccia agli stessi cittadini che portavano avanti queste richieste. Il discorso della sicurezza per quanto riguarda i punti nascita l'abbiamo detto mille volte, lo si può ovviare usando il meccanismo di turnazione del personale, quindi la manualità, la pratica necessaria che serve la si può attuare facendo turnare il personale tra le varie strutture, onde evitare che ci sia del personale troppo poco esperto nei punti nascita dove effettivamente ci sono meno parti, però insomma i sistemi volendo si trovano. Non è di sicuro preservare la sicurezza delle donne, delle partorienti, chiudere un punto nascita e far percorrere 50-60 km in montagna a una ragazza che magari ha un travaglio in corso che comunque ha iniziato ad avere le doglie, infatti più di una volta è capitato che partorissero in ambulanza, per strada, con la nevele di soccorso non può partire, quindi insomma se vogliamo parlare di sicurezza poi parliamone veramente in toto. Bene, continuando a parlare invece di sanità, in questi giorni avete trattato del bilancio, la cifra più grande, le poste più importanti di bilancio regionale sono quelle sulla sanità. Lei è, ricordo ancora, vicepresidente della commissione sanità, ci vuol dire come sono queste cifre, come è messo il bilancio della sanità e poi un commento sull'abolizione del super ticket, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi perché è stato ribadito questo provvedimento che era stato già annunciato a settembre dal presidente Bonaccini sull'abolizione del super ticket. La invito a un ragionamento più globale perché sull'abolizione del super ticket io ho trovato questa pagina oggi in nazionale sulla stampa dove il ministro della sanità ha invece la Giulia Grillo a parlare di abolizione del super ticket, questo a livello nazionale. Vogliamo fare un ragionamento su questo? Sì, sì, sì. Siamo intervenuti in commissione proprio un paio di giorni fa sull'argomento, è venuto l'assessore a darci l'informativa. Beh, io devo dire mi sono complimentata perché è la prima volta che in regione Emilia Romagna viene applicata dall'assessorato una risoluzione votata e approvata dall'assemblea legislativa marchiata Movimento 5 Stelle. Infatti noi l'abolizione del super ticket l'avevamo chiesta ben due anni fa, non ci era sempre stato risposto dal punto di vista pratico picche perché bisognava sentire col MEF oltre che col Ministero della Sanità, perché il bilancio, perché i fondi, eccetera, finalmente ci siamo arrivati. Quindi da questo punto di vista ci fa piacere perché comunque il super ticket era uno strumento che rendeva più iniqua il servizio sanitario pubblico che invece deve essere ovviamente accessibile a tutti i cittadini. Quindi dal primo gennaio viene abolito per i redditi fino a 100.000 euro e è stato anche sottolineato il fatto che questo provvedimento è stato reso possibile perché ci sono stati dei risparmi in sanità. Ma benvengano i risparmi in sanità laddove prima c'erano degli sprechi. Ovvio, noi siamo contrari ai risparmi in sanità come sono stati fatti negli anni passati dove si andava con l'accetta a tagliare in maniera lineare e poi questo andava a discapito dei cittadini, dei servizi ai cittadini. Quindi insomma, ricordiamo che purtroppo ad oggi ancora milioni di italiani rinunciano alle cure per colpa del costo della sanità anche pubblica perché la compartecipazione alla spesa sanitaria quindi i ticket, tra cui anche il super ticket a volte rendevano più costose le cure del servizio sanitario pubblico rispetto al servizio sanitario privato. Questo secondo noi era uno strumento che inficiava il servizio sanitario pubblico oltretutto nel lungo periodo andava anche a diminuire poi quelli che possono essere gli investimenti in sanità. Ricordiamo sempre che la sanità deve essere una spesa ma deve essere anche un investimento nella salute dei cittadini. Più una popolazione è in salute più l'economia di tutto il paese riesce a migliorare oltre ovviamente ad avere una popolazione sana che è l'obiettivo principale. E a questo proposito ricordo che avete appena approvato all'unanimità una legge sulla prevenzione una legge regionale sulla prevenzione è la prima legge in Italia che si fa carico di questo tema in maniera diciamo così globale multidisciplinare e anche voi l'avete votata quindi è una legge che giudicate buona. Sì, è una legge su cui abbiamo lavorato per due anni in un intergruppo formato da tutte le forze politiche chiaramente si poteva fare di più probabilmente sì però naturalmente avendo lavorato due anni essendo stato fatto un lavoro comunque di raccolta di tutte quelle proposte che venivano da tutti i gruppi parlamentari secondo noi si è giunti a un buon punto di partenza. Ci sarà ancora da lavorare insomma speriamo che chi governerà nella prossima legislatura qualunque forza politica sia comunque porti avanti i principi enunciati in questa legge. Andiamo su questo articolo della stampa via il super ticket entro la primavera e nuove assunzioni a parlare è la ministra Giulia Grillo la ministra della salute che si esprime anche sui 40 anni del servizio sanitario nazionale perché appunto è stato fondato istituito nel 78 esattamente 40 anni fa nel dicembre del 78 il sistema funziona ma basta disparità territoriali e sociali nell'accesso alle cure Bonaccini ha detto noi l'abbiamo già abolito il governo dice dice ma non ha fatto come la vuole commentare? La commento dicendo che Bonaccini governa da 4 anni il Movimento 5 Stelle al Ministero della Sanità da pochi mesi quindi insomma volendo visto che la nostra risoluzione era di due anni fa lo poteva fare prima anche Bonaccini insomma però per non entrare in polemica ben venga la manovra anche a livello nazionale questo sottolineare che appunto siamo in linea ovviamente con con le politiche regionali che porta avanti il Movimento assieme a quelle nazionali ben vengano anche le nuove assunzioni sappiamo benissimo che uno dei grossi problemi del sistema sanitario pubblico è la carenza di personale medico infermieristico tecnico e questo ovviamente aumenta le liste d'attesa porta a delle condizioni anche qui dei lavoratori per cui sono costretti a straordinari a volte non si riesce a rispettare la normativa europea che chiede 11 ore di riposo tra un turno e l'altro e quindi insomma sicuramente nuove assunzioni permetteranno anche un miglioramento del servizio sanitario pubblico voterete la manovra di bilancio regionale l'ultima di questa legislatura la settimana prossima c'è qualche emendamento che avete presentato in commissione o che presenterete in aula che riguardi la sanità che è la sua materia in particolare? Sì ne abbiamo diversi e riguardano vari argomenti insomma dall'unificazione delle liste d'attesa per quanto riguarda gli interventi chirurgici al tema degli IRCS che è andato insomma istituti di ricerca esatto istituti di ricerca che è andato in commissione un paio di giorni fa sempre per quanto riguarda le nuove domande ci sono vari argomenti insomma dovremmo avere un po' più di tempo per parlarne bene poi vedremo che cosa passerà in questa manovra e ci verrete a raccontare eventualmente che cosa avreste voluto le chiedo solo un ultimo commento perché oltre alla manovra di bilancio regionale arriverà in aula per il voto anche il progetto di legge sulla promozione dell'innovazione del prodotto turistico insomma la requalificazione della costa un progetto triennale che mette sul piatto una ventina di milioni se non sbaglio lei è di Rimini quindi le chiedo come accoglie questo progetto di legge come voterete insomma ma allora benvengano fondi per la riqualificazione delle zone in questo momento più degradate della costa perché purtroppo abbiamo situazioni molto diverse tra di loro anche all'interno di una stessa città abbiamo zone che sono già state riqualificate e zone che invece hanno urgente bisogno di essere rinnovate proprio per poter permettere anche un'offerta turistica migliore Rimini ne è un esempio alcune zone che ovviamente sono state già appunto riqualificate altre che hanno urgente bisogno perché sono in una situazione di degrado e quindi portano con sé oltre a una diminuzione della qualità del turismo anche ovviamente un problema di sicurezza per i cittadini e per i turisti e nota purtroppo mi ripeto ma devo vedere che questa giunta si sveglia tutta l'ultimo anno insomma anche questo era un tema che abbiamo portato più volte in regione il problema appunto della riqualificazione della costa ci siamo svegliati proprio oggi insomma speriamo che non sia solo anche questo un progetto di legge da spot elettorale ma che poi venga applicato veramente verrà fatto un unico bando pluriennale vedremo poi quando questo bando passerà in commissione cosa che abbiamo chiesto noi perché non era riportato nel progetto di legge l'abbiamo già emendato in commissione chiedendo il passaggio in commissione del bando come verrà fatto e come poi verrà applicato sui territori quindi monitoraggio da parte dell'assemblea legislativa anche sul bando che assegnerà questi 20 milioni in tre anni ai comuni a questo punto siamo arrivati al termine della nostra puntata io vi do appuntamento a martedì della settimana prossima ringrazio Raffaella Sensoli di essere stata con noi una buona giornata da Isabella Scandaletti arrivederci Grazie